E' il ragioniere. Che immane spettacolo, eh, ragioniere! Ma che sta facendo? Eh? Dei conti, questo mese c'ho il muco, i mobili, le gambiali in stradenza, c'ho... Ma come? Siamo davanti alle cascate del Duke de Braganza. Una delle più sconvolgenti immagini della natura. Come se l'Africa nera gettasse fuori la sua anima candida, lei che fa? Pensa alle gambiali? Ah, lei è senza slanci, ragioniere. Pensa soltanto ai conti, al danaro. Non è disponibile più per nessuna battaglia. Ormai ho le idee chiare io. Oggi i lavoratori sono diventati dei conservatori. Ecco una felice intuizione, il vero conservatore oggi è il lavoratore! E così abbiamo inventato un altro modo per farlo al mare dei lavoratori. Che ha detto? Grazie a tutti! Grazie.